Artemisium Web TV, Sant'Agatesi nel mondo, ci siamo, lo abbiamo rincorso per un po' di tempo tra Sant'Agata e Deliceto, ma finalmente ce l'abbiamo, il campione azzurro di Carabina Giuseppe Pio Capano, un campione di tiro a segno, ormai in seno al corpo forestale dello Stato, che arriva di recente da una gara internazionale a Monaco dove ha centrato prima il bronzo e poi l'oro. Com'è andata questa esperienza? Non era certo la tua prima, però un oro è una cosa, una medaglia che si ricorda sempre. Sì, un oro è sempre una medaglia importante, è sempre un grande avvenire, sono state due gare impegnative perché la gara internazionale di Monaco vede impegnati diversi tiratori e tutti di fama mondiale. Nella gara in cui ho preso il bronzo ho avuto qualche defiance in un paio di serie, però sono riuscito a gestire al meglio la tensione della gara e poi in finale sono riuscito ad avere questa medaglia di bronzo che è stata senz'altro emozionante, entusiasmante, ma anche gratificante. La gara del giorno dopo è stata una gara che ho affrontato con più sicurezza e più tranquillità, in quanto sono riuscito a passare la fase di qualificazione in prima posizione e poi in finale lasciandomi anche tutto alle spalle perché il tirassegno, come tutti quelli che lo seguono sanno, è soprattutto uno sport psicologico e lasciandomi la fase di qualificazione alle spalle sono riuscito a prendere questa medaglia d'oro importante che ci fa ben sperare per i campionati europei che si terranno a Darnem in Olanda. Una bella vittoria, sei uno ormai tra i migliori atleti italiani in questa disciplina ma vieni già da esperienze importanti perché a soli 15 anni hai centrato l'argento ai campionati europei, hai fatto già dei mondiali, quindi quell'argento in quell'età così giovane cosa ti ha stimolato e come l'hai vissuto appunto visto che qualche anno fa magari si gestisce diversamente una vittoria del genere? Allora l'argento degli europei del 2012 è stato sicuramente un punto di partenza, un punto di partenza molto importante perché avere un'esperienza così a soli 15 anni ti segna molto, ti fa capire tanto e ti aiuta anche a crescere come uomo, non solo come atleta. Allora Giuseppe Sei di Deliceto, hai delle origini santagatese e ti alleni ormai da qualche anno al poligono di Candela che prima o poi verremo a visitare presto, diciamo così un atleta che è nato e cresciuto sui Monti Dauni ma come nasce questa passione? Beh questa passione nasce dalla passione per le armi, grazie a mio padre, mio nonno, i miei zii che sono anche loro appassionati di armi sono riusciti proprio loro appunto a incanavarmi su questa strada ed è anche a merito loro se sono arrivato ad un certo livello. Al poligono di Candela, il poligono di Candela sta sfornando moltissime atlete importanti che fanno dei bellissimi risultati noi abbiamo a Sant'Agata la nostra Jennifer Messaggero, che ambiente si respira in un vivaio del genere? Beh l'ambiente è sicuramente un ambiente familiare, il tirassegno di Candela è come una grande famiglia tutti gli atleti vengono trattati allo stesso modo indipendentemente dai punti, dai risultati, dalle medaglie ottenute siamo una grande famiglia. Insieme agli obiettivi scolastici ci sono i prossimi appuntamenti sportivi, ti stai allenando già da adesso, come ti prepari? Sì, mi sto preparando per i campionati europei che si terranno ad Arnhem, sto lavorando tecnicamente sto lavorando come ho fatto, come mi sono preparato anche per la gara di Monaco e quindi speriamo bene. Complimenti Giuseppe, speriamo di rivederti presto per un prossimo successo. Grazie, alla prossima.